E tu che sei una mente un pochino più avvezza a pensare a quello che si fa oltre a farlo, accompagnaci in questo chiacchiericcio, che per la seconda volta sono ben felice di ospitare, che venga ospitato. E ti passo la parola perché tu ci dia della granella da mangiare a noi uccellini. Ok, va bene. Lo dicevo prima, insomma, tra di noi che questa seconda puntata per me è stata in realtà difficile da preparare, perché l'altra volta avevo pensato a voi come audience e quindi poi ho tirato fuori una serie di cose che credevo di dovervi assolutamente dire. E invece per questa seconda puntata era come dicevo, ok, adesso ci siamo conosciuti, ci siamo stretti le mani, però se dobbiamo iniziare a camminare insieme devo scegliere un po' dove andare e di che cosa parlare. Alla fine non ho scelto di avventurarmi in profondità chissà dove, però sicuramente ho preparato un po' un percorso di riflessioni che proverò a fare con voi. Qualcuna di queste riflessioni è sicuramente un po' personale, perché anche io sono appunto una che viene stimolata dalle cose che vede, che sente o che legge nelle news e che quindi riflette poi in maniera diversa un po' su tutto quello che pensa. Ecco, per me il pensiero non è una cosa solo fredda, non è come dei caratteri sulla carta. Il pensiero, anche quando è razionale, per me è sempre molto caldo, è sempre molto emotivo, sono fatta così. Non so se tutti avevano già visto la mia presentazione, mi ripresento brevemente, magari con parole completamente diverse. Comunque io sono una fotografa, sono una fotografa documentarista che nasce proprio come fotografa di reportage, studio a New York all'ICP, ma che da ormai 13 anni a questa parte si è spostata sempre più su temi che potremmo chiamare temi invisibili. Se avevo iniziato con, diciamo, discorsi del genere, piuttosto che il corpo della donna all'interno della religione cattolica, la memoria, quindi un po' la spiritualità, invece da il 2021 mi occupo in particolare di un progetto di ricerca sulla morte. C'è una di quelle cose, no? Tu sali in aereo oppure sei a una cena. Ok, che cosa fai? Bene, facci un progetto sulla morte. Oh, cazzo! E vedi la gente che si vuole spostare il più velocemente possibile. Però invece adesso vi dirò proprio solo brevemente un paio di cose che secondo me sono importanti e che vengono proprio da questo progetto. Vi menziono che questo progetto mi ha portato poi a collaborare con l'Università di Padova, con il Master in Deaf Education di Ines Testoni e quest'anno in realtà anche proprio con la facoltà di psicologia perché sono riuscita un po' a far appassionare questi psicologi alla fotografia non solo come fototerapia ma proprio come processo di significazione e quindi gli mostro un sacco di fotografia autoriale, la mia e quella di altri, che cercano invece, cioè quindi di uomini che cercano attraverso la fotografia di indagare il tema dell'umano e le nostre sensazioni eccetera. La cosa che vorrei dirvi rispetto al mio progetto che è proprio sulla morte, ha un titolo temporaneo che probabilmente verrà cambiato Daffy's a Photograph, partendo proprio da una riga che scrive Susan Sontag nel suo primissimo romanzo dove dice la vita è un film, la morte è una fotografia perché vengono ferme, tutto quello che noi vediamo è già fissato e quindi ho preso, questa cosa mi è girata nelle sinapsi per molto tempo quindi è un po' adesso il mio titolo di lavoro, diciamo così, la dammigella che mi porta avanti in questa ricerca. Una cosa che devo dire subito è che più ho cercato la morte più ho trovato la vita e questa è una cosa pazzesca e credo che succeda molto spesso in fotografia che a volte cercando disperatamente una cosa troviamo il suo opposto e ve lo dico come persona estremamente sorpresa se ho iniziato con il lutto, con operatori che lavoravano col tema della morte adesso sono in un periodo delicatissimo perché sto lavorando con persone che hanno avuto incidenti devastanti, che gli hanno proprio cambiato la vita che gli hanno fatto perdere arti, che gli hanno fatto perdere moglie che gli hanno fatto perdere lavoro, che gli hanno resi handicappati e la cosa pazzesca è che mentre io colleziono, faccio domande fotografo questi corpi dilaniati magari da incidenti o da malattie terribili vedo che quando poi loro mi parlano, mi parlano sempre della risurrezione loro mi parlano di questo respiro, del primo respiro quando sei uscito dal coma della prima volta che sei di nuovo riuscito a mangiare da solo parlano in maniera fortissima di questo ritorno alla vita e l'altra cosa invece che mi è successa soprattutto negli ultimi mesi studiando moltissimo, studiando molto questo tema insomma e quindi riempendo la mia testa di pensieri e di cose per poi andare nel mondo a trovarle, metterle in crisi, ok? In un certo senso lavorare quindi con fotografia e tanti altri saperi io credo ciecamente a quello che diceva si vede solo quello che si sa quindi sapere tante cose mi ha permesso poi di andare a incontrare la vita come fosse una cipolla a cui puoi togliere tantissimi strati e c'era questa, una frase che avevo letto di Nabokov che parlava di un personaggio abbastanza bizzarro che una volta vede una foto e questa è la foto di sua mamma con un lettino e quello è il lettino che poi lui avrebbe avuto da bambino ma lui non era ancora nato e lui ha questo attacco di panico tremendo di ansia per cui poi dovrà venire curato eccetera proprio nel vedere che è esistito un mondo prima che lui venisse al mondo e quindi ha iniziato a riflettere su queste cose che noi ci preoccupiamo sempre che non ci saremo in futuro ma non ci preoccupiamo mai di non esserci stato nel passato qualcuno di noi può avere nostalgia di non aver vissuto in un tempo diverso dalla Belle Epoque ai Greci ma non abbiamo questo senso disperato che non c'eravamo prima e quindi inseguendo questa piccola idea questa piccola suggestione ho iniziato a fare altri studi alcuni amici che mi prendono in giro perché per esempio adesso è più di un mese che sto studiando il paleolitico e quindi com'è che sono nati gli esseri umani che tipo di esseri umani sono vado nei musei a fotografare le prime sepolture cerco l'accesso alle caverne dove ci sono i primi disegni fatti dagli esseri umani migliaia di anni fa e adesso vivo in questa sensazione che è una sensazione nuova e non è una sensazione quindi solo razionale ma proprio emotiva del mio corpo che adesso è qui ma di queste migliaia di anni se passiamo all'homo sapiens possiamo andare indietro magari di 75.000 anni se parliamo di ominidi possiamo andare indietro di 500.000 anni quindi questo tempo enorme che c'è stato prima di me dove c'erano uomini e c'erano sogni e c'erano amori e c'era persino l'arte e c'era la narrazione dicono che l'uomo differisce dagli animali per questo è l'animale narrante è l'unico che racconta ai propri figli come sono sopravvissuti tutti quelli prima di lui e poi con questo enorme futuro davanti che ancora non conosciamo e che questo è un momento storico in cui siamo decisamente tutti preoccupati per la guerra e per le fame e per il cambiamento climatico e allora mi sembra di essere questa creatura che sta qua su questo pianeta per un giorno per un tempo brevissimo se pensate all'enormità di quello che sta prima e dopo e qual è il mio unico compito se non quello di tenere per mano tutti gli uomini che sono vissuti prima di me e tutti gli uomini che non sono ancora nati quindi per questo vi racconto questa storia perché questo è il modo in cui io adesso mi sento e in cui mi sento come fotografa e come divulgatrice di fotografia ho una finestra stretta ma abbiamo questo meraviglioso passaggio di consegne prendere esperienze passate per trasformarle nel futuro come sapete l'avevo anticipato già l'altra volta se è vero che sono fotografa sono anche insegnante non mi occupo di lavori commerciali l'altra volta ho fatto le uniche terribili esperienze che ho fatto terribili perché non le sapevo fare mi occupo invece di insegnare ai fotografi professionisti e fotoamatori evoluti come diventare autori e quindi su tutto questo vi rimando sicuramente alla nostra prima puntata oggi non so se il tempo ci basterà però ho preparato un po' di appunti divisi più o meno in tre parti la prima parte che è un'introduzione a cui ho dato anche un sottotitolo le AI mi fanno incazzare ma forse le devo ringraziare questa è la prima introduzione poi volevo parlare di resistenza ai nemici della creatività e poi un po' di come si fa effettivamente ricerca in fotografia e stile che è una delle di solito delle preoccupazioni di tutti i fotografi quando gli dico ok sguardo soggettivo ok usiamo la fotografia come ricerca appare subito questa parola che gli fa soffrire molti no 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 un attimino ma lo stile cioè come faccio a creare uno stile come faccio a creare qualcosa di riconoscibile e quindi volevo parlarne brevemente diciamo che appunto uomo animale narrante ve l'ho detto quindi pensieri ma pensieri calvi e quindi anche pensieri che passano attraverso storie e storie personali per iniziare la nostra chiacchierata vi racconto una storia vera ma brevissima correva l'anno 2013 io mi trovavo in Israele mi trovavo anzi con precisione nei territori palestinesi e sulle montagne sopra Nablus dove c'è una colonia israeliana ok scusate vedevo che c'era una scritta ma non sapevo se saranno iscrivendo a me c'è una colonia israeliana dove abitano solamente ortodossi tra l'altro quasi tutti di origine russa quindi con queste pelli molto bianche e sono circondate ovviamente da palestinesi da beduini e da questo paesaggio desertico brullo molto bello molto affascinante da tanti alberi d'olivo e mi trovavo una notte era una delle mie prime notti in quella zona ero salita su a piedi passando da una piccola strada che poi dopo le sei è stata chiusa per cui quello che poteva essere un'ora a piedi dalla città dove stavo diventava invece un giro incredibile di giorni e giorni per poter tornare indietro oppure una notte seduta nei campi aspettando che riaprissero quella porta e ho visto che da questa colonia avevano tantissimi fari bianchi puntati nella notte puntati verso il deserto ed erano fatti apposta perché così loro da dentro come in un fortino potevano vedere possibili nemici possibili terroristi possibili attacchi che avanzavano verso verso l'insediamento però queste grate di metallo con questi riflettori giganteschi bianchi nella notte erano anche bellissimi perché creavano un paesaggio di deserto e di olivi completamente irreale c'era anche la luna piena che stava si stava mostrando si stava nascondendo e allora ho tirato fuori tutto quello che avevo di fotografico tutto il mio equipment e ho iniziato a fare un sacco di foto dopo io ve lo giuro penso otto, nove minuti immediatamente sono arrivate tutte le jeep dell'esercito sono scesi i soldati mitra messa contro il muro presa tutta la mia roba dicendo insomma che mi trovavo in un posto dove assolutamente non si poteva stare che era pericoloso per me che io potevo essere pericoloso per loro guardavano il mio passaporto molto accigliati perché c'erano gli stamp magari dei permessi di soggiorno in Egitto in altri paesi e io chiedevo costantemente di parlare con una persona che fosse responsabile perché molti di questi soldati hanno davvero 18 anni e non per discriminare persone molto giovani ma potevano essere molto impulsivi quindi volevo parlare col capo e allora arriva questo non so se era un capitano un tenente non lo so lo ricorderò sempre un uomo con gli occhi di ghiaccio probabilmente di origine dell'Europa dell'est probabilmente russo e lui si avvicina era parlava un inglese decisamente migliore dei ragazzi più giovani e mi chiede che cosa stavo maledizione facendo lì in quel posto da sola la notte e ho risposto che lo stavo fotografando perché era bellissimo allora lui si è fatto passare la macchina fotografica ha iniziato a guardare dietro la macchina l'ha presa me l'ha riconsigliata e mi ha detto questa notte la bellezza ti ha salvato sei libera di andare adesso i miei soldati ti riporteranno mi hanno proprio portato in città a Nablus e questa esperienza per me fu molto simbolica e decisamente trasformatrice perché lì ero dall'altra parte del mondo con una persona che non ha mai studiato fotografia che ma non so non so se abbia mai studiato arte però insomma diciamo non era sicuramente un curatore di un museo un curatore del mia non era un foto editor dei giornali non era una persona esperta in materia che però davanti a quello che ha visto nella mia macchina fotografica ha capito senza ombra di indugio quanto era importante quella bellezza e parlando con me dritto negli occhi mi ha fatto anche capire di aver letto quello che è un aforisma molto famoso che probabilmente voi conoscete di Dostoievski che dice la bellezza salverà il mondo e le persone che fanno il nostro lavoro e possiamo anche allargare un po' la maglia perché credo che questo sia un pensiero importantissimo se fai il fotografo se fai lo scultore se fai il pittore ma forse anche se fai sedie o se fai vino o se fai formaggi c'è qualcosa nella bellezza che davvero salva salva il mondo e ci sono una serie di cose che sono secondo me sbagliate o non sono buone e so che non sono belle ok credo che oggi più che mai sia molto importante per ognuno di noi per ogni persona chiedersi che cosa è bello e che cosa è buono perché è questo che poi noi portiamo nel mondo noi non portiamo solamente dei piccoli oggetti estetici ok che potrebbero tra l'altro essere distrutti con grande facilità in qualsiasi loro forma noi portiamo delle idee portiamo un certo modo di vedere di vedere il mondo e e non possiamo secondo me l'avevo già detto l'altra volta lo ripeto lo ripeto stavolta sempre per buon peso non possiamo dirci che la fotografia non sia non sia importante in questo mondo per questo tutti la usano la usano come ricordo come memoria la usano per vendere la usano per comunicare e sia comunicare diciamo no di grandi aziende verso il grande pubblico sia proprio noi uno con l'altro perché se io oggi ero in macchina e si sono avvicinati un piccolo branco di cavalli selvaggi la prima cosa che ho fatto è stato fotografarli e mandarli a tutte le persone che amo e non perché era un'opera d'arte o perché era ricerca ma perché oggi ci viene molto naturale utilizzare l'immagine per far capire gli altri in maniera personale quindi non è un ricordo ma è proprio guarda che cosa mi sta succedendo condividi con me questa esperienza e se si parla sempre di fotografia che documenta e vi devo dire questo è quello che io ovviamente dico spessissimo occupandomi di una fotografia documentaria ultimamente penso tanto anche proprio a una fotografia del reale ma una fotografia che fa sognare perché quando mettiamo queste immagini nel mondo e le persone le vedono dal bocai va bene qualcuno sognerà di possedere la cosa che sto mettendo ok ho fatto la pubblicità dei jeans e qualcuno sognerà quei jeans e sognerà quel modo di essere che vuole acquistare però questa è veramente la cosa più bassa la cosa più banale che può fare un'immagine quella di tra le gritte far desiderare ma può far desiderare tante altre cose dicevo prima un po' scherzando le AI maledette perché vedo oggi un paio di attitudini diverse rispetto alle AI ci sono i colleghi artisti pseudo artisti ma non voglio suonare troppo giudicante i colleghi artisti che si sono lanciati su queste nuove frontiere delle AI per sperimentare questa nuova fotografia fatta con le intelligenze artificiali ve lo dico subito può sembrare fotografia però non è fotografia non è etimologicamente fotografia perché la fotografia è un calco di luce che si fa con il reale e quindi una cosa che assomiglia alla fotografia è come dire allora che quando facevano i quadri iperrealisti che sembrano foto porca miseria anche quelli erano foto invece sappiamo che non è così però è vero che molte verranno messe magari un domani in circolazione come se fossero foto per cui chi si occupa di comunicazione di per esempio false news eccetera sono sicura che avrà addrizzato tutte le orecchie io non mi occupo di questo io mi occupo di e tra l'altro me ne occupo sempre in maniera un po' particolare perché vorrei dirlo subito io me ne occupo dalla parte di chi la fa quello è il mio interesse massimo quello è il campo su cui io moltissimo studio e moltissimo cerco di capire poi ovviamente sono legata allo spettatore e ne parleremo però mi occupo tantissimo del fotografo del fotografo fotografo e del fotografo artista quindi che succede vedo questi miei colleghi fotografi che dicono che le AI sono creative che adesso possiamo fare foto editing di quello che fanno le AI non serve nemmeno più che ci scomodiamo e che ci alziamo e che usciamo nel mondo e molti fotografi che si occupano di pubblicità o prodotto sono invece molto spaventati perché pensano che come una AI adesso può farti il sito può fare un'illustrazione sarà in grado sarà in grado di fare delle foto commerciali che avranno un basso costo e quindi saranno molto interessanti quindi AI maledette perché c'è il rischio che possano portare via dei posti di lavoro dall'altra parte dicevo maledette ma forse forse in un certo senso possiamo anche ringraziarle vi prego perdonatemi per aver detto questo so che domani mattina mi sveglierò tipo il dopo sbronzio davvero ho detto che dobbiamo ringraziarle ok però seguitemi solo nel ragionamento perché le AI sono un plagio costante del del lavoro dell'umano ma non capiscono un AI non sa che cosa è bello sa che cosa è statisticamente bello tanto che un assistente faceva delle delle ricerche perché sappiamo che molto del mio lavoro è stato ingerito e si può verificare perché si può vedere di che cosa si nutrono e allora gli metto ok passa una giornata a chiedergli allora delle cose chiedegli cose legate al corpo della donna chiedegli delle cose legate al corpo della donna della religione che è quello che in teoria dovrebbero aver mangiato eccetera eccetera però al momento non hanno nessuna cultura non sanno che cosa mostrano e quindi è come stare davanti una specie di una slot machine in cui se io continuo a tirare la manovella uscirà qualcosa di interessante e rivendico però non tanto perché ho sentito inizio a sentire molti colleghi che dicono che rivendicano l'umano che è una parola bellissima però non vorrei mai che si pensasse che rivendicare l'umano vuol dire rivendicare i sentimenti dell'umano che per l'amor del cielo sia i sentimenti che il corpo sono fondamentali perché vi assicuro che per esempio fare l'amore con una persona per davvero o chiudere e guardarlo in realtà virtuale no? stiamo d'accordo che ancora abbiamo un corpo e abbiamo un cuore e che essi portano saggezza ed esperienza e non li vogliamo perdere no? non vorremmo essere dei cervelli messi in un vasetto in sala boia io no perlomeno io rivendico tutto il mio corpo per cui io non vorrei però che umano fosse solo per quello vorrei parlare invece tantissimo di intelligenza umana perché noi fotografi quando fotografiamo mettiamo all'interno di queste immagini cultura vi ricordate sono un essere umano che sta così con due mani da una parte c'è il futuro dall'altra parte c'è tutti gli uomini vissuti prima di me cultura è fondamentale è sempre più fondamentale e non solo una cultura specifica per cui ho studiato storia della fotografia che già se l'avessimo studiata veramente avrebbe aiutato molti non la studiano pensando che sia roba vecchia poi li fai vedere delle foto dell'ottocento con una sperimentazione allucinante e rimangono colpiti quindi cultura sicuramente fotografica ma non solo non solo tutta la cultura poesia letteratura musica cinema persino la scrittura cuneiforme babilonese è utile ok la storia quello che ci è successo prima e queste due ci servono per fare una cosa che è proprio quella di sapere il significato di quello che vediamo mi è capitato di chiacchierare con una designer a cui facevo vedere un oggetto e dicevo oh ma questo oggetto è bellissimo ma è stupendo quello che facevano negli anni 70 lei l'ha guardato e mi ha detto questa è la quinta volta che quell'oggetto esce fuori dalle avanguardie è una forma che ci portiamo dietro dall'antichità e ho detto caspita ecco perché lei fa la designer e io sono una ricotta ok questo è storia e cultura saper dare un nome saper vedere le cose che ci sono vicino saper capire il loro significato e la nostra migliore amica è anche la passione e una I con tutto quello che si potrà mai sforzare di fare però non sono convinta che avrà mai questo la passione e parlo di una cosa che tanti danno per scontato dicono vabbè ma come veramente devo venire qui stasera per sentirmi dire passione da Nusica Giulia Bianchi sì perché non è mai a tutti i miei colleghi come la passione ci trasformi da operai senza senza gioia a persone che sono più propense verso l'innovazione la creatività il rischio cioè il fatto che siamo così coinvolti e così spinti in questa in questo medium in questa in queste immagini in questa cultura visuale ci rende diverso da tutti gli altri perché ci permette di essere più coinvolti di vedere di più di sapere di più non solo c'è un'altra cosa che non non può essere perlomeno fino fino ad oggi non può sicuramente essere ad appannaggio di nessun tipo di empatia Nusica Nusica perdonami stai laggando abbastanza e ogni tanto si fa fatica a capire quello che dici hai qualcosa per migliorare la la tua connessione ditemi se mi sentite meglio oh eccoti ho cambiato addirittura stanza bene va bene allora no basta ci siamo vado riprendo va bene allora dicevamo quindi vabbè la domanda le AI sono sono un pretesto la domanda è davvero che cosa ci possiamo mettere noi e quindi vi dicevo cultura storia per capire che cosa significa quello che noi che noi vediamo e cosa raccontiamo e decisamente passione e empatia l'altra cosa che vi segnalo ma molto molto brevemente è un articolo che è uscito sul New York Times scritto da Chomsky dove lui diceva che queste queste intelligenze artificiali prendono i big data quindi prendono tantissimi tantissimi dati per poi andare a costruire un un qualcosa capire qualche comportamento eccetera eccetera gli dice attenzione però noi non dovremmo chiamarle intelligenze perché l'intelligenza è invece quando tu con il meno possibile quindi con pochi segni con poche evidenze riesci a intuire quello che è invece un grande comportamento vi ricordate la famosa scena di quando cade la quando quando cade la mela sulla testa dello scienziato e nasce la fisica ok questo vabbè non so se sia vero non sia vero non ho le competenze poi scientifiche per andare a parlare davvero di questo però c'è una cosa che posso dire da fotografa e da insegnante di fotografia ed è quello che la fotografia è straordinaria quando in effetti invece che seguire un processo illustrativo in cui io mi immagino una cosa e poi la vado proprio ad illustrare però invece usando la matita metto in scena qualcosina e mi ritorna quello che mi ero immaginato un processo illustrativo la fotografia è pazzesca quando invece è un processo deduttivo ovvero quando io vedo qualcosa e questo qualcosa scatena in me un qualcos'altro e siamo insieme è come se fosse un loop c'è un feedback è come dire guardo l'abisso ma l'abisso mi guarda io vengo trasformato da quello che sto vedendo come fotografo e nella foto viene già inglobata la risposta mi era molto piaciuta un'espressione che ha usato questo fotografo americano di origine a Chinatown quindi famiglia cinese che si chiama Baldwin Lee che diceva sapete cos'è una grande foto è come quando tu hai cucinato l'arrosto per tutta la vita per vent'anni poi a un compleanno con tutta la famiglia i parenti tutti quanti arrivano e tu fai il solito arrosto però quella volta tutti lo mettono in bocca e ti dicono che è straordinario che è successo qualcosa di magico e quella pietanza è molto più buona di quello che tu ti saresti mai immaginato e lui usa questo esempio così semplice ma anche se può sembrare magari un po' un po' banalizzata la situazione però è davvero così una grande foto è quando è meglio di quello che noi ci siamo immaginati perché se riusciamo semplicemente a realizzare quello che avevamo in mente noi non abbiamo scoperto niente nel farlo non abbiamo creato qualcosa di nuovo non abbiamo rischiato niente e adesso scusate utilizzo una parola che di nuovo era da un po' che non che non stavo non stavo utilizzando forse per paura di abusarne però è una parola molto importante che quella di mistero faccio un esempio proprio come essere umano se io ho tutta la giornata organizzata e mi è molto chiaro che farò questo e quello e quell'altro e quest'altro ancora cioè immaginate come mi sento la mattina e so già cosa accadrà e poi andrò a dormire il giorno dopo mi sveglierò e riaccadrà esattamente quello che già sapevo mentre invece per noi per gli esseri umani è fondamentale avere delle sacche di mistero fosse anche solo fermarsi per strada in un posto che non conosciamo entrare fare due chiacchiere con uno sconosciuto la possibilità che succeda oggi qualcosa che io non mi aspetto è molto legata alla mia felicità è molto legata a quello che vuol dire essere vivi oggi e in fotografia è la stessa cosa la fotografia è un campo di battaglia del pensiero in cui noi speriamo che accadano delle cose noi vogliamo comprendere delle cose vogliamo vedere delle cose che non sapevamo prima e non importa qual è il tipo di fotografia che facciamo proviamo ad andare avanti un po' su questo filone mi è capitato ultimamente di sentire delle interviste di Walter City scrittore e docente di scrittura proprio perché come docente io cerco sempre di ibridare tante forme di sapere per poi arrivare a parlare di fotografia in maniera un po' più alta un po' più consapevole e non sempre i fotografi sono bravi con le parole ok per cui a volte ci sono grandi saperi ed è difficilissimo tirarli fuori da chi da chi li ha e quindi guardo un po' da tutte le parti non tutte tutte le forme di sapere e la letteratura è una forma di sapere meravigliosa con tante cose in comune e lui parla in una talk della necessità della letteratura di essere ambigua ambigua non nel senso brutto del termine ok non nel senso non so sporco del termine ma ambigua nel senso quello che citavamo l'altra volta Giulio Lafoschi inquieta che si muove che non la puoi mettere in bocca masticarla disputarla non arriva come un'opinione preconfezionata che ti dice il mondo è così punto ok e lui usa questa metafora della trappola di parole che la letteratura è una trappola di parole in cui poi tu ti ritrovi all'interno e sei obbligato a capire che la vita stessa è fatta di contrasti per cui quello che noi possiamo dire un po' come fossimo degli slogan l'amore è bello questo non è letteratura letteratura è metterti in quella trappola perché tu dell'amore senti tutti i possibili sapori trappola però non è una una metafora che a me piace particolarmente mentre invece ce n'è una che io uso molto spesso che mi piace di più che è veicolo e anzi se lo chiedete addirittura al mio fidanzato dico che io costruisco un'arca quindi è un veicolo particolare l'arca ok però insomma magari la prossima volta parleremo di che cos'è un'arca però oggi stiamo nel veicolo in un veicolo ambiguo nel senso appunto non radicalizzato non bianco contro nero luce contro buio buoni contro cattivi ricchi contro poveri ok questo è un veicolo che ti permette una volta che sei dentro di fare un'esperienza che non è solo oh ok queste sono le opinioni di quest'autore le opinioni di questo fotografo ma è proprio poter rivivere quelle esperienze e quindi a questo punto ognuno di noi ha chiamato a dover fare qualcosa con quello che gli è stato passato c'è un libro che è difficile trovare tradotto in italiano perché l'avano tradotto un po' di tempo fa ma è ancora altamente disponibile in inglese e in francese che è lo spettatore emancipato di Rancière e io credo che sia fondamentale andrebbe veramente fatto leggere a tutti a partire dalla prima media soprattutto ai foto editor dei giornali a chi organizza dei palesesti televisivi a tutti quelli che hanno dei clienti che guardano perché nello spettatore emancipato Rancière dice proprio che noi non dobbiamo pensare a chi guarda nel nostro caso le nostre foto le nostre immagini come qualcuno che è vuoto che è cavo una bottiglia cava dove non c'è niente dentro e allora io prenderò questo cucchiaio di sapere meraviglioso perché io Giulia Bianchi so come si fanno le immagini loro non capiscono niente e glielo metti dentro gli imbocchi con questa cucchiaiata non è così anzi è molto pericoloso pensare così è molto pericoloso pensare che là fuori la gente non capisce niente che la gente non sa che cos'è il bello non sa che cos'è la fotografia non non ha gusto e sono no cioè la inizi così e tra cinque minuti gli togli il diritto di voto perché allora questi scimpanzei che stanno là fuori no mica li possiamo lasciare anche votare io sono convinta invece e sono convinta perché passo tantissimo tempo con le persone di tutti i tipi che non è vero che lo spettatore non è vuoto e che lo spettatore non è e non dovrebbe essere trattato solo da consumatore e che soprattutto per le persone che fanno un lavoro come il nostro è fondamentale riconoscere di che cosa invece che cosa c'è dentro quello spettatore e come faccio a creare una relazione con quello spettatore facciamo un altro un altro esempio dicono che i più i più grandi scrittori sono grandi lettori e dicono anche che per godere di un romanzo è necessario che metà di questo romanzo lo scriviamo e lo vediamo noi nella nostra testa tutti questi veicoli che si trovano nella nostra società alcuni potentissimi alcuni meno potenti funzionano proprio perché noi non siamo cavi non siamo vuoti e possiamo invece prenderli e arricchirci completarli lo spettatore emancipato è questo è riconoscere il fatto che quello che io creo come fotografo come scrittore come regista eccetera può stare in piedi solo se c'è un altro essere umano che lo completa ogni vero artista lo sa che non è solo non è solo un diario io quando fotografo mica faccio il diario stamattina ho fatto il diario con i cavalli o la comunicazione personale ma quando fotografo quando lavoro come fotografo io mi devo relazionare a quello che sarà poi lo spettatore e se ci pensate è la stessa cosa stasera o io vengo qua e parlo da sola magari mi parlo addosso e mi dico quello che io ho bisogno di sapere e ve lo dico subito sapete di che cosa ho bisogno di sapere che sono brava perché questa è la nostra preoccupazione costante abbiamo bisogno di essere rincuorati che siamo bravi ok però se io faccio una presentazione il cui unico goal è questo per sentirmi dire brava ti assicuro che sarà una presentazione orribile se invece tutto quello che io so diventa uno strumento che posso affilare e che ha un destinatario e questa diventa una lettera d'amore a qualcuno che non conosco molto bene e allora sì che possiamo dire che che questa cosa ha un senso che ho costruito un veicolo che funziona perché non muore dentro di me non nasce e muore dentro di me ma può sposare un altro una cosa che mi piace tantissimo dell'essere fotografa da circa 15 anni è che ho visto che gli spettatori i foto i fotoeditor i curatori i musei e i clienti cambiano idea continuamente per cui questa cosa all'inizio quando mi ero affacciata al mondo del lavoro avevo la sensazione che fosse di granito ok questo è quello che piace questo è quello che piace da sempre ok io o sono così oppure vado da un'altra parte ok è proprio una cortina di ferro impenetrabile e invece quello che ho visto e che posso testimoniare e che moltissimi di voi possono testimoniare è che invece questa è una conversazione è una conversazione che si fa a livello culturale e che non serve niente io questo lo dico chiaramente poi potete cazziarmi parlo parlo per me stessa non serve niente che io faccia una fotografia di nicchia di ricerca che parla solo a me e ai miei tre migliori amici fotografi e che non ha nessun contatto con il mondo in cui sono e non ha senso nemmeno che io mi metta a scopiazzare quello che va di moda oggi quindi deve essere necessariamente una conversazione io non devo né essere inondata e continuamente in rincorsa di quello che sta andando di moda anche perché quello che vince oggi i premi quello che arriva oggi sui giornali è già vecchio cioè se io mi metto a scopiazzarlo adesso sono già in ritardo sono già in ritardo di un anno o due ok quindi oppure è una conversazione però come ogni buona conversazione allora in questa conversazione io devo avere la mia voce e devo con la mia voce parlare o rispondere a quello che sta succedendo ed è una conversazione che facciamo tutti insieme io reclamo fortissimissimissimissimo il diritto che ha ognuno di noi di avere questa conversazione a livello pubblico quindi globale in cui Giulia non sa neanche di far parte di una enorme classe dove stanno anche Stefano e Paola e Marco e Max e Massimo ed Emanuele eccetera eccetera però noi non ce ne rendiamo conto ma tutti insieme continuamente portiamo avanti questa conversazione con i nostri spettatori emancipati ok e la rivendico anche dal punto di vista personale in cui il cliente X ok che ne so mi viene in mente la regione Trentino nel mio caso ok il mio cliente X mi dice voglio questo 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 e quindi che ne so magari mi aspetto che tu mi faccia una foto figa epica naturalistica del Trentino perché quello che io voglio è che la gente viene qua in vacanza e c'è una conversazione con me che invece sposta questo che era se ci pensate non è che era non è che è un goal sbagliato perché non è che il Trentino non deve più avere gente che va lì giusto pensate che cosa brutta se tutti dimenticassero il Trentino ma è una mancanza di prospettiva e di immaginazione perché oltre a dire che il Trentino è bello noi possiamo dire molto di più con le foto possiamo far passare quella che dicevo prima è un velicolo è un'esperienza un certo modo di stare al mondo questo vuol dire che devo essere molto più brava come fotografo vuol dire che probabilmente avremo da fare un percorso con il mio cliente questa è una buona storia perché l'abbiamo fatto poi quel percorso gli anni scorsi però appunto c'è un discorso globale e c'è un discorso privato che si fa poi con ognuno di questi di questi clienti dove non ci deve essere quel clash che dicevo prima io piccolo genio non mi capisce nessuno le mie cose non me le faccio neanche vedere voi ignoranti tremendi non capirete mai le bellezze della nicchia fotografica rivendico tantissimo invece che ci deve essere questa conversazione perché le nostre foto vanno vanno nel mondo parlavo prima di mistero non in senso mistico ma nel senso più ampio proprio esistenziale del termine foto che fanno anche sognare foto che fanno immaginare un modo diverso di stare di stare al mondo pensate la potenza che possono avere le foto se parliamo di ecologia se parliamo di economia se parliamo di ricchi o di poveri se parliamo di antropologia se parliamo di nemici politici se parliamo di Ucraina di Russia le foto ci aiutano a creare opinioni o a veramente a rendere stereotipate tremende le nostre opinioni ok quindi io sono sempre per foto che aprono non foto che che chiudano e per foto quindi che possono immaginare anche no immaginare un mondo dove che ne so pensate a tutte queste cose della body positivity e come la fotografia è stata utilizzata per integrare persone che hanno corpi diversi generi diversi colori della pelle diversi recentemente parlavo proprio legato alla montagna con quello che era un famoso alpinista della pubblicità degli anni 80 che era Manolo che faceva queste queste pubblicità dove l'uomo arriverà dove non arriverà nessuno attaccato così alla roccia e e lui mi ha detto che gli dispiaceva dirvi che lui è incredibilmente pessimista lui dice non c'è futuro non c'è futuro Giulia è inutile che mi dici che teniamo per mano gli uomini del futuro gli uomini del futuro non ci sono io noi il futuro glielo abbiamo mangiato glielo abbiamo distrutto io ho 65 anni e ho visto scomparire ghiacciai dalle Alpi che tipo di futuro ci può essere io quando ero ragazzo lasciavo un biglietto in casa con scritto vado in montagna e poi nella montagna dietro casa avevo le avventure più pazzesche che un essere umano potrebbe avere dove sentivo il contatto con la natura sentivo il senso del limite sentivo il rischio sentivo la paura di morire sentivo l'adrenalina di essere vivo ma soprattutto ero a due passi da casa e potevo continuamente aprire nuove vie per altri uomini che sarebbero venuti in montagna e oggi oggi ci sono skillift e cabine e ovetti che ti portano ovunque non c'è più niente di inesplorato puoi andare in cima all'Himalaya e quello che troverai è un sacco di spazzatura di tutti quelli che vanno a fare campeggio là sopra e quindi Nausicaa Giulia Bianchi non dirmi che posso tenere per mano il futuro perché non è vero perché il futuro ce lo siamo divorati io l'ho ringraziato tantissimo per questa per questa chiacchiera e capisco che che lui la senta così e che soffra anche per questo e lo ringrazio perché per me invece è una grande chiamata alle armi perché so che quello che ho sempre fatto e quello che devo continuare a fare è dire a quelli che conosco che dobbiamo aprire nuove vie che dobbiamo recuperare che dobbiamo ridare siamo comunicatori siamo creatori di immagini le nostre immagini vengono viste sempre da migliaia di persone e alcune delle nostre immagini che vengono viste da poche persone vengono viste tantissimo perché stiamo raccontando dei loro momenti più particolari più personali e più importanti dalle nascite ai matrimoni e via e via discorrendo ok quindi questa cosa di aprire nuove vie è fondamentale ma per farlo non possiamo noi non possiamo farlo se non decidiamo di prendere dei rischi e questi rischi si prendono in tantissimi livelli e tantissime forme quella famosa chiacchierata con il cliente dove gli dici si va bene questa cosa sì ma forse possiamo essere più ambiziosi forse possiamo fare di più di questa cosa qua è un rischio il rischio magari di non essere capiti ma anche per esempio quello di fare per una certa campagna un tot di immagini che sono quelle che ci aspettiamo e poi un tot di immagini completamente personali pazze diverse che potrebbero non essere scelte il rischio di investire i nostri i nostri soldi e il nostro tempo magari in progetti personali o in studio o in ricerca o in formazione continua però una cosa la so per certo perché l'ho visto continuamente nella mia vita che se non prendo rischi non accadrà niente se non prendo rischi sarà veramente essere già parte di una sarà essere un prodotto sarà essere un vasetto di yogurt uguale a tutti gli altri vasetti che erano intorno a me prendere rischi a livello personale lavorativo immaginare nuove cose proporre nuove cose alla fine che cosa vuol dire avere una passione se non prendiamo rischi e ultimamente questi rischi io ho proprio iniziato davvero a metterci sempre più soldi sopra questi rischi quindi veramente ve lo dico da una che ha la sedia che ogni tanto la sente tremare perché ogni fotografo è anche un imprenditore che è una cosa che non non direi se non a voi che siete professionisti quindi anche come imprenditori noi dobbiamo capire ci dobbiamo in un certo senso avere una una fetta di noi che è legata a questo rischio che non sta rincorrendo il mercato ma sta creando il mercato quando parlo di mistero ovviamente parlo di bellezza parlo di stupore e quindi parlo dei segreti che molto spesso il mondo tiene intorno tiene chiusi tiene nascosti non vuole far vedere come la fotografia invece è pazzesca nel riuscire davvero a svelare alcuni segreti fotografia perfetta per investigarlo per immaginarlo per riconfigurarlo e non solo per dirci sempre continuamente quello che già sappiamo che è davvero l'utilizzo peggiore che si possa fare della fotografia è una fotografia che secondo me sfugge spesso da quelle che sono le idee preconcette quindi gli stereotipi visuali modelli mentali eccetera proprio quando decide di dare un volto molto concreto alle cose tantissime fotografie mi chiedono come faccio ad essere creativo pensando che si debbano immaginare chissà che cosa e invece ve la passo lì un po' come fosse non lo so la mia opinione la mia esperienza un piccolo consiglio da portare via da questa serata molto spesso in fotografia la chiave di volta è la specificità se invece che guardare una cosa una persona un matrimonio una sposa si guarda proprio quella cosa lì quella persona lì più viene dettagliata più diventa davvero l'unica cosa che conta per voi in questo momento e una finestra per parlare di tutto così però nel suo specifico meglio è il problema è quando fotografiamo la ballerina perché se fotografiamo una persona specifica che per caso fa la ballerina di solito abbiamo già rotto tantissime idee preconcette e moltissimi stereotipi su quella cosa lì è come se la fotografia fosse questa cartina torna sole che ci serve per imparare e conoscere il mondo e la cosa pazzesca è che la possiamo appoggiare su ogni cosa ma va appoggiato proprio sempre con una domanda che cosa sto guardando lì e perché lo sto guardando aspettate veniamo un po' più avanti un altro piccolo consiglio che io do è che spesso uno pensa che essere un professionista voglia proprio dire essere spersonalizzato non so perché non so da dove arrivi questa immagine però nella mia esperienza è molto sbagliata perché il professionista è in un certo senso il fotografo capace di essere più personale di tutti e che riesce a essere in questo professionista riesce a essere personale a comando è per questo che io sono un professionista non perché non ho sentimenti non ho opinioni e non ho idee ma perché riesco se mi permette una spalla a farle uscire a comando riesco ad accedere a che cosa secondo me a tre cose fondamentali l'immaginazione la mia biografia con tutto quello che mi è capitato e quello che ho capito del mondo e le mie emozioni e riesco a metterle a servizio di qualcun altro che non ha quella competenza quindi non è così importante il fatto cioè è fondamentale saper usare la tecnica è condizione necessaria non importa quanto hanno facilitato l'ingresso nel mondo della fotografia con macchine che fanno sempre di più da sole anche però rendendo sempre più standard quello che viene mostrato ok ma è la vera ricchezza gli strumenti più incredibili il motivo per cui io sono un professionista è proprio tutto queste cose che io ho dentro e la capacità di muovono di tirarle fuori e di metterle a servizio è molto importante che ogni fotografo professionista abbia un dialogo aperto con se stesso questo anche ci rende diverso da chiunque altro perché io sono convinta che la vita sia un cammino ma che la vista stessa sia un cammino dobbiamo capire che cosa conta per noi che cosa ci fa paura che cosa amiamo che cosa speriamo da dove veniamo pensate adesso faccio un potrei fare esempi fotografici facciamo un esempio anche solo di registi a come quello che loro hanno respirato e vissuto da bambini cambia completamente il tipo di cinema che fanno e non stiamo parlando di cinema di nicchia stiamo parlando anche di cinema estremamente pop e la stessa cosa vale per moltissimi fotografi adesso mi viene in mente Crudson ma la Sanguinetti moltissimi questa capacità di accedere a chi siamo perché siamo noi lo strumento fotografico per eccellenza e non solo gli occhi questo è fondamentale sugli occhi negli occhi noi li usiamo per fare una cosa per per conoscere sì ma vi dico adesso da vecchia volpona sempre più per riconoscere perché quando noi premiamo quel pulsante c'è un istinto che è talmente forte che voglia a metterlo cioè ci vogliono anni poi per ingabbiarlo quell'istinto lì abbiamo così poco tempo per decidere quando premere l'otturatore però questo istinto può essere allenato sempre più perché si si accordi in un certo modo quando sentiamo qualcosa di particolare dentro cioè un momento in una scena ci sono alcune cose che vediamo dove sentiamo come se qualcuno ci desse un pizzicotto proprio lo sentiamo sentiamo che sta succedendo qualcosa di speciale e quel pizzicotto lo possiamo sentire non solo perché abbiamo visto una cosa bella esteticamente per quanto sia importante ma anche perché quella cosa riecheggia tantissimo su come siamo e su che cosa abbiamo vissuto fotografia non è mai io vi dico una cosa per me in fotografia il cosa fotografo è quasi sempre un pretesto perché la vera lotta il vero veicolo la vera ricerca è molto più sul come racconto quella cosa che ho visto tutti i progetti fotografici tutti i lavori fotografici possono essere pazzeschi non è che un lavoro sui giovani è meglio che un lavoro sull'Alzheimer che è meglio di un lavoro sulla body positivity che è meglio di un lavoro sui cavalli in Patagonia alla fine la cosa davvero importante è come noi guardiamo a tutte queste queste cose sicuramente quando però iniziamo a mettere in moto tutto questo quindi fotografare è un atto personale fotografare è un atto politico fotografare è un atto poetico fotografare è un atto rischioso ci sono una serie di nemici che compaiono che stasera citiamo appena appena purtroppo i miei studenti sanno che invece ci sono tipo ci sono ore di video mie dove li presento tutti uno per uno la prima l'ho citata prima quasi involontariamente che è la vanità e il fatto che molto spesso si arriva alla fotografia perché qualcuno ci ha detto che eravamo bravi però poi arriva sempre un punto in cui ci rendiamo conto che o questa cosa non era vera cioè che non siamo così bravi perché c'è sempre qualcuno più bravo di noi oppure e questa è la cosa più importante che non è quello il vero goal cioè il vero goal non è fare una foto in cui qualcuno riconosce che ho del talento della bravura quella è davvero la prima elementare e se facciamo così molto spesso la fotografia diventa pessima lo scrive David Foster Wallace lo scrive agli scrittori e c'è attenzione perché se scrivete per dimostrare che siete bravi scrittori scrivete roba veramente stupida cioè avete già mancato tutto vi ricordate una foto il veicolo è una lettera d'amore per uno sconosciuto quindi il problema più grande è davvero quello di arrivare all'altro e non in maniera paternalistica è proprio l'incontro ho creato un'esperienza per te e sono curiosa di sapere poi tu come la vivi quindi in questo senso io una cosa che dico sempre è che il lavoro viene dalla parte deve venire dalla parte di noi che ama non dalla parte di noi che vuole essere amata perché la parte di noi che ama è libera ed è potente mentre la parte che vuole essere amata di solito è insicura ed è un po' schiava quindi se volete rischiare qualcosa dovete davvero muovervi da quella parte lì che però se mi chiedete è fondamentale perché è la parte che vuole dare alla parte che ha l'urgenza di essere di vedere di andare nel mondo di partorire cose di condividerle con gli altri di creare qualcosa tutti insieme l'altro problema secondo me quindi da una parte la vanità è tremenda l'ego lo dicono un sacco gli scrittori la prima cosa di cui liberarsi è quel ego malefico la seconda è la vergogna ovvero molti di noi pensano che non vada la pena fare tutto questo lavoro perché in realtà non siamo bravi abbastanza ok pensiamo che chi sono io per fare questa cosa ma chi mi credo di essere io per andare a un cliente e proporgli magari la cosa su cui ci siamo già trovati ma anche un passo in più e e io questa cosa che ce l'avevo fortissima per molti problemi sicuramente di educazione problemi anche personali magari una certa attitudine di carattere penso che ognuno di noi debba trovare un modo di risolverla perché credo l'avessi detto l'altra volta quando l'idraulico viene qui a salvarmi la vita perché mi sostituisce il tubo che si è rotto non è che prima mi ha detto no non credo di essere abbastanza bravo non vengo ok quindi ci deve essere noi questa cosa che facciamo un lavoro importante ed è un lavoro di servizio un lavoro verso gli altri se sono se gli altri sono fortunati io sono un genio e se gli altri sono sfortunati io sono una persona normale ok ma sono una persona normale che si può impegnare moltissimo e non lo dirò ma è abbastanza la fotografia è un lavoro più di esperienza che di talento serve moltissima esperienza e quindi questa questa cosa della vergogna io l'ho proprio l'ho proprio tolta con questa idea del voler amare del voler essere a servizio del voler non dico essere utile perché citerò Fabio l'idea dell'utile mette in crisi l'idea del buono però sicuramente mettermi a disposizione degli altri c'è un libro bellissimo in inglese che si chiama The War of Art di Steven Pressfield che è un self-help book per scrittori ne ho letti tanti quando cercavo di togliermi quella vergogna ok che veramente mi teneva sempre ferma sentivo continuamente la voce chi ti credi di essere per fare questo chi ti credi di essere per andare davanti a delle persone e parlare chi ti credi di essere continuamente la sentivo quella voce ed è il migliore che abbia mai letto sul tema dopo averlo letto questo Steven Pressfield c'è anche sul mio sito da insegnante gratuito per scaricare il pdf perché andrebbe spacciato come la marijuana il vino i dolci il cioccolato la maionese tutte le cose che fanno impazzire davvero aiuta moltissimo perché è un'analisi lucidissima di quello che succede nella nostra psicologia lui la chiama resistenza è quella che facciamo contro il cambiamento contro l'innovazione contro la vulnerabilità contro lo spogliarcino di per primi contro la condivisione eccetera eccetera e dice che quando la resistenza abita la nostra vita noi proviamo ansia proviamo inadeguatezza insoddisfazione paura rosichiamo quando guardiamo il lavoro degli altri rosichiamo da paura ci giustifichiamo continuamente con noi stessi facciamo continuamente le vittime mettiamo in dubbio sempre tutto e per prima cosa noi stessi questi sono tutti i sintomi che abbiamo una fortissima resistenza la cosa che lui dice e che io ho trovato sicuramente consolatoria ma poi l'ho trovata anche reale è che alcune persone che hanno una resistenza fortissima è perché questa resistenza è proporzionale a quello che c'è in palio hanno una passione un amore talmente forte verso qualcosa che ne sono automaticamente terrorizzati c'era questa frase di Chuck Padden che ho letto da ventenne che diceva trova quello che ti terrorizza e vacci a vivere dentro però lui non intendeva la guerra ok non intendeva o non solo perlomeno ma intendeva anche proprio quello essere uno scrittore essere un fotografo fare un progetto personale fare un progetto sulla mia famiglia fare un progetto sulla vecchiaia fare un progetto sul mio quartiere sul mio territorio sugli appennini che si spopolano provare a fare del fashion fatto in maniera diversa provare ad avere conversazioni diverse con i miei clienti eccetera più resistenza si prova a volte più è sintomo del fatto che questa cosa invece ci importa moltissimo perché lo saprete meglio di me che l'opposto dell'amore non è l'odio è l'indifferenza con i famosi adagio finché odi ami ancora e l'opposto della resistenza non è l'indifferenza ok davvero vuol dire che c'è qualcosa lì per noi che vale che vale moltissimo un'altra forma di resistenza che vedo continuamente ed è la peggiore in assoluto insieme al perfezionismo è la procrastinazione perché noi non diciamo a noi stessi che quella conversazione quell'innovazione quella creatività quel progetto personale non lo faremo mai noi ci diciamo che non siamo ancora pronti noi ci diciamo che adesso siamo in crisi ma che tra qualche mese ok appena avremo superato una serie di cose appena avremo studiato meglio appena avremo fatto un'indagine di mercato fatta meglio bla 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 ok dico delle sciocchezze allora quella cosa sarà possibile fare però non è così in realtà la procrastinazione diventa questa sorella assassina e tremenda che fa sì che sia sempre domani noi non saremo mai pronti per farlo esiste solo un modo di iniziare a fare qualcosa ed è di iniziare ora ed è bellissimo perché ci sono alcune biografie di scrittori di artisti dove loro raccontano questo episodio che magari viene in mente Robert Irwin espressionista astratto che racconta semplicemente una volta di essere stato seduto su uno scoglio e che a un certo punto e noi non sa neanche bene perché si è detto sì lo voglio voglio fare questa cosa la voglio fare per davvero da adesso poi la farò per davvero e la prima volta che l'ho letto ho detto sembrava ci fosse un po' un enfasi ho capito ma neanche mi dice perché la motivazione il processo bla 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 e poi ho ritrovato in tanti altri artisti scrittori questo stesso momento e mi sono resa conto che ce l'ho avuto pure io e che arriva per molte persone ma deve arrivare deve arrivare è come tentare di spaccare un asse di metallo sì è vero magari gli dai un milione di colpi e non si rompe poi ne basta uno anche il più piccolo e quel metallo si spacca di colpo ci deve essere un momento in cui il nostro metallo si spacca in cui decidiamo che questa cosa qui da adesso noi ci siamo da adesso è così e non si torna più indietro non disimpareremo quello che abbiamo imparato in generale questo mi sarebbe già detto l'altra volta i nostri talenti le cose in cui siamo bravi eccetera più non le sfruttiamo più diventano delle vere delle vere maledizioni ok e c'è questo c'è un libro che si chiama Fuggire da sé è un libro non lo so se di psicologia o di psicoterapia in realtà è un libro che usa la letteratura per parlare di questi disturbi e di un disturbo in particolare che si chiama Biancore però mi è capitato di leggerlo perché nel 2018 io ho avuto una terribile crisi io per un anno non ho voluto fotografare non ho guardato libri di fotografia mi veniva veramente proprio una sensazione di dover vomitare anche solo di avvicinarmi alla fotografia è stato un anno terribile e per molto tempo chi era vicino a me ha pensato che fosse una specie di esaurimento nervoso che fosse magari anche sindrome di post-traumatic stress disorder ero stata a Gaza durante la guerra venivo da due anni in Israele che erano stati durissimi avevo un libro che volevo pubblicare che facevo fatica a pubblicare ero passata da un mercato che era quello americano un mercato italiano con dinamiche completamente diverse una città come Milano dove si è vero che trovi un sacco di persone che lavori incontri un sacco di quarantenni che dicono di fare gli artisti ma che vivono ancora con i milioni che avevano fatto i loro genitori e quindi creano una bolla artistica non sostenibile che io neanche a New York avevo mai visto perché sì di vedere un ventenne stipendiato dai genitori sì ma un quarantenne che va a fare gli aperitivi a Milano e dice che fa l'artista e non ha bisogno di campare con la fotografia non mi era ancora mai successo quindi un mercato drogato un mercato io dicevo ma come no vanità e invece trovavo tanta vanità nel mercato che incontravo e quindi insomma tutti pensano che abbia avuto un breakdown in realtà ho capito poi nel tempo che mi era capitata una cosa una cosa diversa che ho scoperto chiamarsi biancore che è diverso dalla depressione molto diverso se dovessi farvi una un esempio è come se io mi fossi sentita non dico che sia vero ma è come se mi fossi sentita a un tavolo da gioco in cui giocavo pesante giocavo tutto quello che avevo mi facevo anche male per giocare ok in maniera forte rischiosa coraggiosa e a un certo punto mi fossi accorta che il tavolo era truccato e che per come lo vedevo io era anche un tavolo corrotto e allora qual è stata la reazione è stata quella di togliermi dire non gioco più vi lascio il tavolo non gioco non gioco più e per un anno non ho più voluto giocare e non sapevo neanche spiegarmi che cosa stava stava succedendo tra l'altro in casa anche c'era una bruttissima sensazione perché il giorno in cui entro in questa in questo biancore è tre giorni dopo aver parlato con Aperture e aver sentito la foto eredita di Aperture che dice siamo interessati al tuo libro dopo anni che spingevo per pubblicarlo e quindi è anche arrivato come questo grosso paradosso in cui le persone che facciano parte della mia famiglia più stretta dicevano tu sei pazza tu ti sei completamente bevuto al cervello perché nel momento in cui hai la possibilità finalmente di pubblicare con un grande editore tutti hanno visto fosse un autosabotaggio a un certo punto leggo questo libro si chiama i fratelli Tanner di Walser che è un è uno scrittore svizzero non credo che possa piacere a tutti non so neanche se è proprio piaciuto a me però sicuramente l'ho trovato molto interessante e a un certo punto leggo questa frase che lui scrive nel 1907 e lui credo sia un uomo che in quel biancore di cui vi parlavo non è stato solo un anno ma c'è proprio sprofondato tanto poi da iniziare è molto curioso a scrivere sempre più piccolo finché poi per leggere la sua calligrafia bisogna utilizzare una lente di ingrandimento ed è finito a vivere in un manicomio separato nella neve e a continuamente togliersi sempre più dal mondo e lui nel 1907 scrive io sono ancora sempre davanti alla porta della vita busso e busso certo con scarse rovenza e tendo solo ansiosamente all'orecchio per sentire se viene qualcuno che voglia aprirmi il chiavistello non sono nient'altro se non uno che ascolta e attende come tale però perfetto perché ho imparato a sognare mentre attendo quando ho letto questa frase mi ho letto una pelle d'oca incredibile non ho dormito per diversi giorni perché mi sono resa conto che togliendomi da quel tavolo da gioco io ero davvero una donna che stava dietro una porta ed era perfetta era perfetta perché non faceva il gioco della vanità non si doveva sporcare con altri colleghi di cui magari non condivideva i modi non doveva trovare compromessi con il mondo reale poteva semplicemente evitare tutto questo rimanere dietro la porta e quindi perfetta mentre sogna invece che magari ci sia una fotografia tutta diversa e c'è una cosa che vi posso dire con certezza che c'è stato un momento in cui ho detto che no non vivrò la mia vita dietro quella porta che la porta l'ho voluto aprire e ho voluto tornare a quel tavolo e questa volta mi sono accorta che c'erano tante cose in più a quel tavolo e soprattutto che io ero uno dei giocatori e che ci e che potevo trovare altri alleati e che siamo tantissimi che hanno molte visioni in comune e molte preoccupazioni in comune per questo mondo e in particolare per la fotografia e quindi no non sto più alla porta a bussare leggermente per vedere se qualcuno mi apre sto su quel tavolo proprio aperta critica anche no critica volenterosa cercando delle soluzioni vi dico solo brevemente altre sintomi di resistenza che sicuramente sono tutte le forme di dipendenza specialmente nel nostro tempo il cellulare o i social stare tutto il tempo in instagram a vedere quanti followers ci sono se qualcuno ha likeato come sta andando la campagna ossessionarsi sopra questa cosa è una è una forma di addiction è una forma di dipendenza esattamente come sarebbero il cibo le droghe vengono chiamate dipendenze soft sono comunque dipendenze si mangiano tantissimo del nostro tempo ma soprattutto tantissimo delle nostre energie mentali bisogna trovare secondo me assolutamente un modo di regolare tutte le dipendenze che fanno proprio male all'artista fanno proprio male al fotografo la paura è un'altra forma terribile e le giustificazioni la resistenza è così forte perché le giustificazioni che ci propone sono sempre sensate non sono impossibili il mercato non va bene i miei colleghi non mi capiranno quel cliente è un conservatore sono tutte giustificazioni in cui si può solamente dire che hanno ragione ma nonostante questo c'è gente tutti i giorni che se ne frega di quelle giustificazioni e crea qualcos'altro crea qualcosa di diverso per cui un'altra cosa che ho capito è che non bisogna ascoltare queste giustificazioni razionali bisogna essere un po' un po' pazzi bisogna fare delle cose bisogna smettere di preoccuparsi di un sacco di cose che secondo me sono poco importanti tra cui tra l'altro l'opinione pubblica e ci sono invece una serie di cose che possono aiutare se volete mi fermo qua c'è un'altra lezione adesso ce ne deve dire però scusa ve ne menziono il titolo però è proprio un'altra lezione adesso ci dici il titolo e ci dici la data in cui tornerai almeno questo è una tortura è uno stilicidio no è vero poi sono tantissimi concetti vedete come in realtà quasi solo li accenno li cito poi andrebbero Nausica il mondo ha bisogno di persone come te non so chi ti mandi se qualcuno ti manda o se sei un incidente ma è importante che ci siano ci siamo una gemmazione di questo di questo sentire perché perché ne abbiamo bisogno tutti ne ha bisogno il mondo quindi sì sono le sette i titoli e poi e poi io ti ringrazio in una maniera che non so non so non so riassumere penso abbiamo fatto centinaia di dirette a me personalmente è la situazione che mi mi ha dato di più e penso mi riderà altrettanto tutte le volte che riguarderò questa chiacchierata a 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 grazie vai col titolo allora i titoli aspetta allora adesso abbiamo appena attraversato diciamo così i nemici volevo parlare solo citare almeno diciamo così i titoli degli amici vulnerabilità decisione fare fare ricerca costruire il proprio giardino il processo la fedeltà il gioco la libertà il servizio e il viaggio ok i titoli dicono che c'è ancora da raccontare se siete d'accordo con i tempi che Nausica troverà adatti a incastrarsi col suo lavoro ci metteremo d'accordo per un'altra per un'area in tre bene grazie a voi allora abbiamo i microbochi e facciamo un applauso grazie 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 molto bello grazie 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 assolutamente grazie grazie